Confcommercio sonda l'interesse di 350 aziende verso l'intelligenza artificiale, tra negozi, turismo e servizi. Il 56% delle imprese dice in maniera molto chiara che poi la introdurrà nella propria azienda e oltre il 50% di queste aziende ha già definito un budget, quindi sintomo che c'è un interesse molto forte per l'intelligenza artificiale. Le grandi aziende la utilizzano, le piccole sono scettiche ed è proprio loro che i maggiori esperti incontrano in una sala gremitissima per capire, organizzarsi e agire. E questo sarà il nostro compito che poi sfocerà in un corso un po' più specifico che verrà dato alla formazione ESA proprio per preparare queste nuove competenze. Un mondo che si apre tra paure, insidie e vantaggi competitivi. Nel digital marketing viene oramai applicata in ogni singolo canale del digital, quindi è importante capire che cos'è, cosa si può fare, come si può applicare a livello personale invece io sono molto contento perché già oggi mi fa fare molto meno lavoro di prima e quindi riesco a produrre molto di più con meno tempo e lo vedo come un assistente, per me è una sorta di collega di lavoro col quale faccio delle cose che prima non potevo fare. La preoccupazione più naturale è quella del verremo sostituiti da questi strumenti, in realtà non è vero, nel senso che questi strumenti sono un ottimo supporto alla nostra attività e senza la nostra conoscenza, senza quello che è tutto il lavoro che andiamo a fare per costruire l'assistente perfetto per noi, ovviamente l'assistente non potrebbe esistere, quindi ancora bisogna aspettare. Il consiglio secondo me è conoscerla, abbracciarla nel senso di comprenderla e nello stesso tempo tenere allenata la nostra capacità di dire adesso no, ti uso dopo. Con l'intelligenza artificiale la grossa differenza la farà la comunicazione, la creatività, l'impatto che arriverà agli utenti rispetto ai contenuti che noi presentiamo, quindi grosso focus anche alla creatività. L'intelligenza artificiale può essere di supporto per la creazione delle creatività, ci sono dei tool specifici che ci aiutano, ma anche le piattaforme stesse stanno integrando dei sistemi per fare delle creatività.